785 mila euro al comparto siciliano della zootecnia diventa realtà la legge vinciullo che porterà al comparto una boccata d'ossigeno vedendo la retribuzione del 25% delle spese effettuate. La senatrice del PD Venerina Padua ha detto sì alle unioni civili a Roma, intanto il disegno di legge è quasi pronto e verrà incardinato alla Camera. L'aeroporto di Catania sempre più al centro dell'attenzione delle grandi compagnie aeree che annunciano importanti collegamenti, oggi intanto presentazione del nuovo logo della SAC. Ottava giornata per la sicurezza stradale, questa mattina all'istituto Quintino Cataudella di Scicli, l'incontro come ogni anno è stato organizzato in memoria di Dario Campo. 14 e 16 minuti siamo tornati in diretta con l'informazione su video mediterraneo, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Dunque l'avete ascoltato dai titoli in apertura, parliamo di un'importante legge approvata a Palermo che darà sicurezza e una vera e propria boccata d'ossigeno alla zootecnia siciliana. Stiamo parlando della legge Vinciullo che vedrà la retribuzione del 25% delle somme spese dagli allevatori siciliani da parte dell'Unione Europea. Un importante provvedimento di cui abbiamo parlato direttamente con il padre della legge, l'onorevole Vincenzo Vinciullo. Buone notizie per la zootecnia siciliana. La legge Vinciullo del 2015 è ormai in realtà. Ieri sera l'Assemblea regionale siciliana ha approvato lo sblocco di 785 mila euro per l'importante comparto siciliano. Il presidente della commissione bilancio a cui è attribuita la paternità della legge ha chiesto e ottenuto che l'articolo 84 della finanziaria arrivato in aula composto da due commi fosse votato per parti separate. Questa scelta, secondo Vinciullo, si è resa necessaria in quanto, come lo stesso ha dichiarato, proprio per essere certo che questa indispensabile spesa per la zootecnia isolana fosse salvata. Questo atto era già esistente 38 anni fa ma poi cancellato. In sostanza sarà retribuito il 25% delle spese che si presenteranno ai produttori. La legge è nata dalla volontà di sostenere i lavori da parte degli allevatori per migliorare le razze trattate. Un provvedimento che coinvolge gli allevatori ragusani di equini, suini, bovini e dovini, con ampi margini di crescita del tessuto economico del comparto. La legge che sblocca 785 mila euro servirà da incentivo da impiegare nella prosecuzione all'acquisto e all'impiego di capi riproduttori. A dichiararlo, Vincenzo Vinciullo, cui si deve la norma stessa. Già l'anno scorso non tutte avevano sollevato delle perplessità sul fatto che c'era la possibilità che il governo potesse impugnare questa norma. E il governo non l'ha impugnata perché la legge è rispettosa di quelle che sono le direttive della Comunità Europea. In pratica possono soffrire di questa legge tutti gli allevatori che acquisteranno nuovi capi di bestiame e potranno in questo modo migliorare dal punto di vista genologico le razze che abbiamo in questo momento e di conseguenza avranno la possibilità di contribuire ancora di più a far sì che le stalle della nostra provincia di Ragusa e di Fioracusa continuino ad essere fra le migliori a livello nazionale e di avere una possibilità di far espandere questo settore che per quanto riguarda soprattutto la provincia di Ragusa tanto positivo è stato per l'intero comparto zootecnico. E se arrivano buone notizie per gli allevatori siciliani, dall'altra niente tetto agli stipendi dei dirigenti di enti partecipate della regione siciliana. La norma prevista in finanziaria è stata bocciata dall'Aula durante l'esame della legge di stabilità. La bocciatura è stata riguarda anche l'emendamento del Movimento 5 Stelle che prevedeva il limite a 79.200 euro lordi annui. Il voto finale è arrivato con il voto segreto, bocciata anche la valorizzazione dei beni immobili della regione. Si ritorna alle 15 in Aula per continuare la discussione e l'approvazione della finanziaria entro domani da parte dell'Assemblea regionale siciliana così come auspicato dal presidente Giovanni Ardizzone. Ieri sera ha bocciato l'articolo 60 sulla valorizzazione dei beni immobili della regione. L'Aula ha votato con il voto segreto, un emendamento soppressivo a firma del Movimento 5 Stelle. La norma prevede che queste attività possano essere realizzate anche mediante affidamenti in regime di house providing a società totalmente partecipate dalla regione già costituite. La spesa annua prevista per il triennio 2016-2018 è di un milione e mezzo di euro. Trattato anche l'articolo 72 della legge di stabilità che introduceva un tetto da 118 mila euro per gli stipendi dei dirigenti delle società partecipate ed imponeva la revisione entro 30 giorni di tutti i contratti in essere all'entrata in vigore dalla legge con compensi superiori. Ma la norma, sempre con il voto segreto, è stata bocciata dall'Aula durante l'esame della legge di stabilità, bocciatura che riguarda anche l'emendamento del Movimento 5 Stelle che prevedeva il limite a 79 mila e 200 euro lordi annui salvando però gli stipendi dei dirigenti che almeno fino al prossimo anno non dovrebbero subire decurtazione. Niente dunque tetto agli stipendi dei dirigenti di ente e partecipate della regione siciliana. 71 voti contrari però 173 favorevoli, tra questi anche quello della senatrice del PD Venerina Pado. Stiamo parlando delle unioni civili di cui si è discusso a Roma in Senato. Sentiamo. Il max emendamento sulle unioni civili che ha superato lo scoglio del Senato con 173 sì e 71 no Adesso passerà alla Camera dei Deputati. Del testo sono state stracciate le norme sulle stepchild adoption e i riferimenti al matrimonio. Il max emendamento approvato dal Senato ha completamente riscritto il disegno di legge Cirinna sul quale il governo aveva deciso di dare la fiducia. Per il Premier Matteo Renzi la giornata di ieri resterà nella cronaca di questa legislatura e di tutto il Paese. Dello stesso avviso anche la senatrice eblea del PD Venerina Padua. La legislazione italiana infinalmente si adegua a standard di civiltà degni di uno Stato laico e moderno che assicura diritti a tutti i cittadini e sancisce le pari dignità di ogni essere umano all'interno della nostra comunità ha detto la Padua che ha votato in maniera favorevole. E' inutile negare, continua la senatrice, che la materia divida parecchio l'opinione pubblica e il percorso per giungere a questa mediazione è stato piuttosto lungo, complicato e sofferto. Tra le questioni da affrontare che richiedevano risposte da parte del legislatore c'era anche questa perciò il voto di ieri rappresenta un passaggio storico. Il PD ha scelto la strada della responsabilità di fronte ai tanti dubbi stracciando la norma sulle adozioni per le coppie omosessuali impegnandosi nel contempo alla presentazione di un provvedimento specifico di riordino dell'intera materia. Parliamo adesso di cronaca, dovrà scontare 5 anni e 28 giorni di reclusione quale cumulo di pena conseguente ad alcune sentenze divenute definitive per i reati di tentato furto aggravato, guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia a fine di lucro. Per Giuseppe Zocco, pregiudicato di Pozzallo, i carabinieri hanno attuato un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla procura di Catania. L'uomo adesso si trova nel carcere di Ragusa dove dovrà scontare la pena prevista. E adesso ci spostiamo a Ragusa dove la politica in città è davvero nel caos a seguito dell'emendamento di Pasquale. Se da una parte l'emendamento di Pasquale rende felici i comuni blei per la corrisponzione delle royalties, dall'altra Ragusa non ci sta. Un malumore manifestato con le dimissioni di Giovanni Iacono da presidente del Consiglio Comunale. Quest'ultime però lasciano dietro una scia di polemiche non indifferenti in quanto, secondo alcuni membri dell'opposizione ragusana, non si sta attuando una vera e propria strategia comune. Le dimissioni di Iacono infatti non sarebbero per alcuni membri dell'opposizione una scelta sensata o comunque non classificabile come segno di protesta forte e incisiva. Chi potrebbe essere il suo successore? Non lo so, non lo so, deciderà il Consiglio cosa fare. Consiglio che al di là del Consiglio sono contento anche perché la città sta rispondendo, la città si sta svegliando da questo punto di vista e sta cercando di capire che la gestione della cosa pubblica non può essere lasciata o demandata solo a pochi, ma deve essere compartecipata dalla città stessa. Adesso i lavori del Consiglio Comunale sono stati presieduti da Federica Zara, del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Civica Sisera Gusana. E a proposito di Consiglio Comunale, secondo il consigliere Elisa Marino, ad esempio, la scelta di Pasquale ha mortificato il territorio ed è questo il momento di agire uniti contro l'emendamento, ha sottolineato la Marino. Azioni più forti da parte del Consiglio Comunale e della città intera vengono proposte dal consigliere Sonia Migliore. Quest'ultima ha dichiarato che la protesta dovrebbe spostarsi a Palermo e che la linea assunta dalla maggioranza per esprimere il dissenso potrebbe risultare adesso troppo morbida. In questo momento hanno dichiarato la Marino e la Migliore è il momento della sinergia con l'unico interesse di fare il bene per la città, dimenticando colori politici e appartenenze. Intanto, ieri durante la civica assise, oltre a parlare di futuri lavori nell'ambito della legge su IBLA con la conseguente scelta su cosa focalizzare l'attenzione e quindi destinare i fondi, è stata bocciata la proposta sulla istituzione della commissione di studio per fare chiarezza sulla destinazione dei sordi spesi provenienti dalle royalties da parte del PD. Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali del Partito Democratico Mario D'Asta e Mario Chiavola che sottolineano come si sia persa una buona occasione per applicare i sani principi di legittimità, di trasparenza e di legalità e anche per ridurre le tasse. Abbiamo aperto il nostro telegiornale parlando di una buona notizia per la zootecnia siciliana e quindi di buone notizie per tutto il territorio siciliano. A proposito di buone notizie parliamo dell'aeroporto di Catania che è sempre più interesse da parte di compagnie aeree estere molto forti e oggi è stato presentato nella sede della SAC il nuovo logo della stessa società che gestisce l'aereo scalo siciliano che diventa sempre più forte, sempre più interessante per tutto il mondo. Bisogna comunicare e per farlo occorre creare un rapporto di fedelizzazione con il fruitore. Da questo presupposto la SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania ha deciso di avviare un restyling dell'immagine proprio aeroportuale e questo processo si è concluso oggi con la presentazione al nuovo logo della SAC. Più dinamico e avvolgente, il profilo dell'aereo icona che caratterizza da tempo il logo della società di gestione ha perso di steticità e appare adesso in movimento. Il vecchio luogo che era bello, storico, ma dava questo posterio fermo invece c'è questo rimovimento, è il segno di un territorio ancora prima della SAC che vuole muoversi e questo è un segno molto forte e poi questo richiamo al blu del mare, all'azzurro del cielo che credo sono anche due elementi molto caratteristici del nostro territorio. Un'occasione è quella di stamattina anche per parlare delle nuove tratte che caratterizzeranno lo scalo etneo. Come annunciato all'amministratore delegato della SAC, Ghetano Mancini sono sempre più le compagnie aeree interessate all'aeroporto di Catania ed è per questo che partiranno i voli per Iasi in Moldavia, per Amsterdam, Lione e Berlino, per Monaco di Baviera, di nuovo per Amsterdam con Welling, per Malta, per Malpenso con un aumento delle rotte giornaliere ma anche per Pisa ed infine il ritorno da parte dell'Italia per Bologna. È uno scalo che incrementa il numero dei passeggeri e incrementa anche il numero dei voli e questo, come dire, è una delle mission delle società di gestione aeroportuali. Venendo ai dati, si è registrato un 9% solo nel periodo legato a Sant'Agata, un 53% in più di passeggeri nel mese di gennaio e per quanto riguarda i primi 20 giorni di febbraio si è registrato un 4,40% in più. Il gennaio conferma che ormai si è totalmente riassorbito, come avevamo previsto ampiamente, l'effetto della sospensione di attività di Air One e da riduzione meridiana, quindi l'aeroporto di Catania continua a crescere in maniera importante. Controlli a tappeto da parte della Polizia Stradale di Ragusa nei confronti di taxi e noleggio con conducente. A Ragusa, in Piazza Zama, un taxi aveva la licenza scaduta, pertanto gli agenti di polizia hanno proceduto alla contestazione delle infrazioni previste dal Codice della Strada che prevedono sanzioni amministrative che vanno da 1.700 a 7.000 euro circa, oltre al sequestro del mezzo, per la confisca. Un altro conducente taxi aveva invece la revisione scaduta e dunque è stato anche lui multato ed è stata sospesa la circolazione del mezzo. All'aeroporto di Comiso, infine, un tassista è stato sanzionato per non aver asseguito la licenza. Sulla Ragusa Catania, invece, la Polstrada ha sanzionato due conducenti che effettuavano il trasporto di persone per violazione della prescrizione della licenza che prevedono il ritiro della carta di circolazione. I controlli rientrano nell'ambito della campagna europea TISPOL. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Scicli, dove oggi è stata una nuova giornata, l'ottava per la precisione in merito alla sicurezza stradale, sicurezza stradale che ogni anno viene promossa in ricordo di Dario Campo. Ancora una volta la sicurezza sulle strade al centro degli incontri organizzati dall'Istituto di Istruzione Superiore Quintino Cataudella di Scicli insieme alla scuola famiglia Cataudella Onlus. L'argomento di estrema importanza, come ogni anno, viene inserito nell'ambito dell'iniziativa Giovani Vite da Amare nel ricordo di Dario Campo, giunta all'ottava edizione. Un momento toccante ed emozionante in cui si ricorda Dario, morto prematuramente in un incidente a Roma dove studiava. In suo ricordo il padre, Salvatore Campo, ogni anno oltre alla borsa di studio organizzata in sua memoria rivolta a studenti meritevoli che vogliono proseguire gli studi universitari, vuole lanciare un messaggio ben preciso alle nuove generazioni in tema di sicurezza stradale. Nell'aula magna del Quintino Cataudella, tra gli altri illustri ospiti, c'era anche il prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizi. Il messaggio di vivere la vita cercando di evitare quelli che sono gli effetti di una guida assolutamente non adeguata e comunque di una velocità che non porta a nulla. Questo è il primo messaggio. Il secondo è sicuramente quello dell'impegno civile, l'impegno di una scuola, l'impegno di associazioni che operano in questo settore e che quindi hanno veramente come finalità, come obiettivo quello di aiutare i ragazzi. E poi il terzo è l'impegno di un padre che ha perso il proprio figlio e che ha fatto di questa tragedia, in maniera veramente, devo dire, con grande dignità, con grande coraggio, uno scopo e un impegno civile. La giornata dedicata dunque ai giovani e per i giovani è stata introdotta dal dirigente scolastico del Quataudella, Enzo Giannone. Subito dopo le parole di Gregoriano Chipinti e Raffaele Pisana sulla campagna di sensibilizzazione ed educazione Divertiamoci Sicuramente, rivolta alla sicurezza stradale. Poi si è parlato di zero vittime sulla strada, si può, con Giovanni Fiorito, professore emerito dell'Università di Catania ed infine lo scrittore e saggista Domenico Pisana ha relazionato sui giovani del terzo millennio, tra sogni e desideri, naufragi e speranza. Questa è l'ottava giornata dei giovani. Intendiamo con questo richiamare i ragazzi a comportamenti corretti quando si trovano sulla strada e anche le famiglie dei ragazzi perché insomma di queste cose se ne discuta e anche le istituzioni perché anche loro devono fare una parte molto importante perché i sistemi della sicurezza da quello che noi abbiamo capito in tutto questo periodo sono soprattutto tre. I comportamenti di chi guida la situazione dei mezzi con cui si guida e poi anche le strutture nelle quali noi andiamo a camminare, a passeggiare, andare con la macchina quindi è importante. E sempre al Quentino Cataudella poco prima di questa manifestazione si è tenuto un grande momento di confronto fra etnie e il tutto per la promozione della pace. Sulla strada della riconciliazione tra Israele e Palestina è questo il tema di un incontro che si è tenuto oggi per la presentazione del progetto Semi di Pace agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Quentino Cataudella di Scichili. Un progetto che è stato promosso dalla rivista Confronti sostenuto dall'otto per mille della Chiesa Valdese per dar voce a palestinesi e israeliani impegnati nelle educazioni alla pace e al dialogo interreligioso. La conferenza è stato un momento di riflessione e discussione con gli studenti sul conflitto ancora odierno tra israeliani e palestinesi e sulla possibilità di riconciliazione al fine di cooperare e convivere insieme per siglare la pace tra i due popoli. Tra gli interventi la testimonianza di una donna palestinese ed una israeliana entrambe parenti delle vittime di guerra e parti attive della fondazione Parent Circle Families Forum. Il messaggio che proponiamo è sempre a favore della pace. Quello che noi chiediamo infatti è di non essere oppositivi nei confronti di Israele o nei confronti della Palestina perché questo è qualcosa di non salutare per entrambi. Quello che possiamo suggerire è di leggere le notizie con altri occhi e di ascoltare quindi tante voci non solamente quelle che sono a favore di un popolo oppure di un altro. Questo è un messaggio molto importante per tutti quanti, soprattutto per i giovani. Da quando siamo in Italia da quando abbiamo potuto fare la conoscenza delle persone che lavorano a confronti ma anche per Mediterranean Hope e le persone della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia siamo rimasti impressionate di come le persone credenti possono fare molto per la pace. Purtroppo sia in Israele che in Palestina i fondamentalisti di ambo le parti influenzano troppo la nostra vita e influenzano troppo le scelte politiche dei nostri paesi. Invece appunto si può far molto per andare in una direzione opposta per poter trovare quindi la pace. A dare un forte contributo a questa manifestazione Michele Lipori della rivista Confronti. Siamo qui appunto a Scicli per promuovere la 18esima edizione del progetto Semi di Pace. È un progetto in cui la rivista crede molto per il dialogo fra israeli e palestinesi ed è stato possibile continuare a farlo per tutti questi anni al supporto dell'8 per 1000 della tavola valdesi Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi. Si insedia ufficialmente lunedì il nuovo parroco della Chiesa Madre di San Pietro a Modica padre Antonello Abbate. La celebrazione è prevista per le 18.30 con la Santa Messa da parte del Vescovo della Diocesi di Noto Monsignor Antonio Stajano padre Antonello subentra a Monsignor Corrado Lorefice già parroco della Chiesa di San Pietro per 7 anni e da dicembre arcivescovo di Palermo. 14.36 minuti c'è la pubblicità ma torniamo subito dopo per parlare tra l'altro del cantante Giovanni Caccamo. Lo sport in apertura di seconda parte del nostro telegiornale allenamenti e ranghi completi in casa passa l'acqua spedizioni in vista del match di domenica pomeriggio sul parquet di Parma valido come sesta giornata del girone di ritorno del massimo campionato di basket femminile con le nazionali Nadalin, Gorini, Consolini e Eric che si sono nuovamente aggregate al gruppo coach Gianni Lambruschi ha avuto nuovamente la possibilità di avere tutte e dieci le giocatrici a propria disposizione già dal pomeriggio di ieri. Adesso la palla a mano è la classica partita da dentro o fuori quella che potrà continuare a dare ancora un senso all'attuale stagione oppure fare completamente perdere di vista l'obiettivo domenica infatti torna a giocare tra le mura amiche della palla a mano ragusa che deve ancora recuperare il match che si sarebbe dovuto disputare in trasferta a Messina alla palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino arriva l'handball Palermo che ha tre punti in meno rispetto al sette ragusano e che quindi coglierà l'occasione per cercare di operare l'aggancio in classifica nel campionato di Serie B cambiamo argomento dopo il successo di martedì sera per il suo concerto per il concerto di Giovanni Caccamo al Teatro Tenda di Ragusa oggi a MTG parla il presidente della Fondazione San Giovanni Battista Tonino Solarino che traccia alcune peculiarità del nuovo CD di Caccamo non siamo soli dal podio di Sanremo 66esima edizione condiviso con l'amica Deborah Iurato per interpretare il brano Via da qui all'abbraccio pieno di affetto che Ragusa ha tributato al suo artista più noto il Teatro Tenda di Ragusa ha colto l'invito di Giovanni Caccamo ad acquistare il suo nuovo CD non siamo soli e presentarsi in teatro per assistere al concerto un incontro musicale intimo con pianoforte voce ammaliante fermisto ai momenti di dialogo con gli spettatori sono diventati parte integrante della serata un selfie per ognuno autografi abbracci con i familiari con i tanti nuovi amici che trovano nella sua musica originalità emozioni e poesia l'evento è stato inserito nel calendario del Festival delle Relazioni promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista festival giunto al secondo anno di programmazione di cui Giovanni Caccamo è direttore artistico il presidente della Fondazione San Giovanni Battista Tonino Solarino ai nostri microfoni ha espresso parole di elogio nei confronti dell'artista modicano Dici bene è una bella occasione sia per accogliere Giovanni dopo questo suo straordinario successo per la nostra provincia sicuramente è un pezzo di storia storico sia perché ascolteremo il suo secondo album che ho avuto voglio di ascoltare che è molto bello noi non siamo soli il titolo che è stato dato all'album effettivamente anche dal punto di vista etico e religioso è un messaggio assolutamente importante da dare alla collettività ma guarda penso che tutti gli artisti intuiscono ma non solo gli artisti ci sono dei dei semi che fanno sperare rispetto alla consapevolezza che bisogna lavorare per legami per relazioni per appartenenze veniamo da un percorso di individualismo esasperato di cui stiamo vedendo alcuni frutti dolorosi e deteriori la grande sfida della relazione è come mettere insieme la bellezza della propria originalità però una bellezza che non si isola dagli altri non vede gli altri come nemici ma che come dire vive con gli altri la bellezza anche di essere insieme occorre procedere al più presto alla bonifica del sito e magari sottoporla a sorveglianza per evitare il ripetersi di simili gesti è quanto dichiara Marcello Medica del comitato per modi cadente in merito al monumento posto sulla collina dell'Itria al ricordo del giubileo del 2000 che versa in condizioni pietose il comune e la chiesa sono state avvisate adesso ognuno faccia la sua parte per restituire alla città il monumento nel suo originario decoro e splendore ha concluso così Medica la società fedeli e portatori di San Corrado e l'associazione portatori dei cili organizzano per domani la raccolta alimentare di San Corrado presso i supermercati di noto all'iniziativa partecipano anche l'istituto comprensivo Melodia l'istituto comprensivo Maiore e l'istituto comprensivo Aurispa 14 e 44 minuti non ci sono aggiornamenti da parte delle agenzie pertanto questa edizione termina qua grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento su video mediterraneo Grazie a tutti Grazie a tutti